Ancora le emozioni per i nostri VIP non sono finite. Il settimo aereo è stato mandato dai fan di Manuel e Lulu. Molto felici di vederli di nuovo vicini e pronti a viversi, senza limiti, questa magnifica esperienza al grande. Fratello VIP I sostenitori della coppia vogliono far sapere ai due VIP che hanno sempre creduto in loro e che hanno sostenuto questo altalenante rapporto poiché, in fondo in fondo, sapevano che si sarebbero ritrovati. Manuel e Lulu, sei abbiamo sempre capito. I vostri fan Giucas, non avendo capito cosa sia successo, esce in giardino e si fa raccontare la scena dai due ragazzi appena avvenuta, felice come non mai. L'illusionista grida per la gioia, essendosi da sempre dimostrato un accanito sostenitore della coppia. Ve l'ho detto che siete bellissimi anche Biagio, vedendoli vicini a scambiarsi i teneri baci. Commenta la romantica visione, facendogli arrivare così il suo appoggio.